Io faccio solo un semplice saluto, perché sono rimasto subito dal filmato su come è una di queste opere. E siccome dal filmato sembrava una cosa difficile ma facile da seguire, poi mi sono fermato sulla struttura d'abbraccio, ho detto, sì, va bene, facile da seguire, era difficile ma secondo me quasi impossibile. Per cui di fronte allo stupore della realizzazione, perché è ormai su incentivare l'art e la cultura in questi anni avevo letto tante parole, soprattutto addirittura del caso, ma più oltre a arte c'è una bravura di realizzazione, di capire che cosa si vuole realizzare, che una persona negli eventi ignorante come è che si trova un po' di numeri, e la senta quasi l'inconsiglio, per cui lascio la parola poi all'ottore prima l'assessore Cagliani per il saluto istituzionale, poi all'ottore per mostrarci meglio questi dati che ho provato. Complimento a tutti i dati che sono qui. Io volevo partire dal ringraziamento all'artista che ci ha permesso di avere un spazio di questa mostra davvero spettacente. Lo volevo ringraziare perché in questo periodo dove gli sforzi sono tanti e sacrifici ancora di più, il rischio è che passi un po' l'idea che la cultura sia una cosa superflua. E quindi sul superfluo si può valiare. Io penso che è proprio in momenti come questi che la cultura deve essere sostenuta e insieme alla cultura la conoscenza deve essere sempre di più incendicata. Perché? Perché per uscire dai momenti bui soltanto l'intelligenza e la sensibilità dell'arco umano, il fatto di poter condividere con tutti ed essere solidari con tutti può ridurre a tirarci fuori dai problemi e dalle difficoltà. Quindi io ringrazio la mia carattista e voi che siete intervenuti perché molto spesso nelle difficoltà dei venti locali è proprio la volontà del simbolo, la capacità di mettersi in gioco. In questo spazio noi abbiamo scrittato tutti questi che grazie alla loro generosità hanno reso possibile offrire alla popolazione e alla gente che la potrà venire a vedere con l'arco. Grazie.